Ciao ragazze, benvenuti in questo nuovo video e oggi ritorneremo a parlare di dieta ducan. Vi avevo già annunciato sulla community di YouTube che avrei ricominciato a parlarne se vi avesse fatto piacere, quindi eccomi qua. La domanda che sicuramente in tante mi farete è come mai sei ritornata alla ducan? Sono ritornata a fare la ducan perché ho preso tanto peso in più, non sono più riuscita a seguire le varie diete che la nutrizionista mi aveva dato perché ho avuto dei periodi con scarsa motivazione e adesso in questo periodo di zona rossa, sapete bene che la Sicilia è zona rossa, ne ho approfittato per dedicarmi un po' più a me stessa e quindi fare in questo periodo la ducan. Ovviamente d'accordo con il parere della mia nutrizionista siamo arrivate a un compromesso di seguire la ducan, magari per queste due settimane e poi passare alla sette giorni, limitando il consumo dei latticini o comunque cercare di preferire i latticini consentiti senza lattosio. Di formaggi senza lattosio io ho trovato solamente i fiocchi di latte che a me non piacciono, però vabbè me li faccio piacere, quelli li posso mangiare in quantità e gli altri cercherò di limitarli. Ho iniziato a riprenderla da oggi che è lunedì 18 gennaio, potete ben capire che aver ripreso 13 kg nonostante ci ho messo un po' di impegno, non tanto ma un po' e poi arrivare sempre a dei fallimenti perché non sono riuscita a seguire bene la dieta, avevo sempre quella voglia di mangiare, mangiare, mangiare per via di nervosismi e cose varie, allora ho detto no, voglio qualcosa di più immediato, che dia un po' più, qualcosa di più diretto e poi in caso continuare con la sette giorni, ecco che poi la sette giorni per chi la conosce è la dieta mediterranea, ovvero mi spiego meglio, si inizia da un giorno d'attacco per poi arrivare ad inserire tutti gli alimenti come nella dieta mediterranea e continuare così. Riprenderla mi ha dato un senso di gioia, di felicità perché ho detto se posso arrivare in poco tempo ad ottenere dei buoni risultati con la speranza di riuscire a mantenerli poi nel tempo sarà sicuramente una vittoria. Vi racconto un po' la mia giornata così ve la descrivo. Stamattina avrei voluto fare una colazione diversa da quella che ho fatto perché ho fatto semplicemente un caffè e latte, avrei voluto però preparare un porridge perché da poco ho scoperto il porridge e insomma volevo consumarlo stamattina, però poi dalla fetta mi sono svegliata anche tardi perché non ho passato una buona nottata, ho detto vabbè, caffè e latte e basta. Ovviamente i due litri di acqua che sto continuando a bere durante questa giornata e che continuerò a bere per tutti i giorni. A pranzo ho fatto la piadina di crusca, quindi è stato a pranzo che ho consumato la crusca, la crusca d'avena. Adesso insieme a voi mi sto concedendo la mia merenda, che è una merenda abbastanza sostanziosa perché ho appena terminato di fare attività fisica. Quindi sì, ho introdotto anche l'attività fisica, mi voglio impegnare in queste due settimane ad essere costante con l'attività fisica che consisterà in delle passeggiate all'aria aperta almeno 30 minuti a passo veloce quando il tempo lo consentirà, se piove ovviamente non lo farò, in quel caso otterò per fare degli esercizi magari di yoga dentro casa o comunque degli esercizi a corpo libero dentro casa. Non so, magari dei salti con la corda, so che sono molto validi comunque. Ho associato gli addominali. Gli addominali mi fanno tanto bene per il mio problema alla schiena. Sto sorseggiando intanto una tisana. Questa è una tisana detox e questa qua, la tisana detox dell'Angelica. Non so se si vede. Ecco, questa qui. Poi mangerò uno yogurt bianco magro in cui inserirò una bustina di stevia perché non gradisco tanto il sapore così dello yogurt bianco magro, proprio mi sa di acido. e poi tre fette di prosciutto cotto, 2% di grassi. Il sabato sono andata anche a fare la mia spesa, è stata fatta a Lidl, infatti qui ho lo scontrino e ho speso 46,41. Se volete vedere il mio video di come fare la spesa con 50 euro al mese, vi metto qui il video in sovraimpressione e cliccateci su per andare a vederlo. Ho comprato tutto l'occorrente, mi sono concentrata di più sulle proteine animali, quindi ho preso macinato magro, fettine di vitello, fesse di tacchino, filetto di pollo, le uova, gli albumi, il yogurt, il formaggio spalmabile a goldessa, l'inesse, ecco, ora si chiama solo formaggio spalmabile a Lidl, ho preso il famoso quark e poi ho preso anche la stevia, il tonno in scatola, ho preso anche altre cose per iniziare a preparare dolci. Non farò dolci né con il latte in polvere perché mi fa malissimo quello, e né con il glutine perché anche quello mi fa molto male. Quindi sarò limitata nel poter fare dolci, infatti ho comprato comunque i lieviti che non ne avevo più e avevo paura poi di non trovarne più successivamente per il periodo che abbiamo e potete immaginare. Ho comprato il cioccolato fondente, l'amido di mais che quello lo posso consumare. Mi è sembrato strano non comprare le verdure, quelle poi le comprerò in un secondo momento passati i 5 giorni di attacco perché giustamente per i chili che devo perdere i giorni d'attacco saranno 5. Per chi volesse rivedere tutte le fasi della dieta Tucana, per chi se le è perse o per chi è nuovo, vi metto qui la playlist con tutti i video sulla dieta Tucana così potete capire anche come funziona questa dieta. Inoltre mi sta motivando tanto essere membro sempre del gruppo Facebook Amici e Ricette Tucana. Lì veramente, come vi ho sempre detto, si trova tanta tanta motivazione. Infatti cerco di essere attiva in questo gruppo proprio per confrontarmi, per vedere le idee, le ricette. e a proposito di ricette devo inventarmi qualcosa per stasera. Per concludere volevo rispondere a una domanda che mi ha fatto una ragazza quando ho annunciato che avrei iniziato la Tucana. Mi ha chiesto se la Tucana può essere seguita anche da chi è vegetariana. Assolutamente sì, perché invece delle proteine animali si possono sostituire con le proteine vegetali. Dovreste andare o nel blog Amici e Ricette Dieta Tucana oppure sul gruppo Facebook. Ve li lascio qui sotto nell'info box così ci potete dare un'occhiata perché sia nel blog che nel gruppo Facebook trovate una sezione dedicata agli alimenti consentiti anche per i vegani e per i vegetariani. Li lascio qua sotto, facciamo così, così non perdete tempo a cercarli. Ve li inserisco direttamente io. Ascettatevi di rivedere nuove video ricette, di nuovo aggiornamenti sul peso e magari altri contenuti riguardanti alla Tucana. Sicuramente ve lo annuncio già, sarò più costante su Instagram perché lì mi viene più facile attraverso le stories che sono molto veloci condividere appunto più informazioni con voi ed è anche più comodo e più facile tenerci in contatto perché rispetto a YouTube è un modo più veloce per comunicare. Quindi per chi ancora non mi seguisse su Instagram andate a seguirmi. Li trovate come Estetica Enza. Chi ha iniziato insieme a me da lunedì me lo faccia sapere e fatemi sapere con che tipo di dieta avete iniziato. Dico, non vuol dire che se non avete iniziato con la Tucana non possiamo comunque motivarci a vicenda. Anzi, nel frattempo di rivederci al prossimo video auguro tanta motivazione a tutti e un grande in bocca al lupo di riuscire nel proprio obiettivo. Come sapete il mio obiettivo è sempre lo stesso quello che avevo raggiunto qualche anno fa ovvero quello di arrivare a 58 kg. Quindi teniamo duro di essere costanti e speriamo di farcela. Un bacione a tutti. Ciao! Ciao!